Buongiorno amore Come sei lovetta? Ti ha scritto senza cantiti Hai fatto lovetta? Hai la gioia Amo, tu puoi fare molto di meglio e senza ovetta Vai vai Ma por... Quindi mi sono precipitato nella stanza dello spirito del tempo a fare ciò che andava fatto La colazione per pallotta E a proposito di pallotte, tutte le cose più belle e buone partono proprio da questa forma Il panettone, per essere chiamato tale, deve avere alcuni ingredienti importantissimi come lo zucchero e i canditi Ma questo è un po' come il calabrone che non sa di non poter volare e vola lo stesso Fetta di panettone, contorno di ansia da prestazione e si torna in camera nella speranza che pallotta non si sia fatta vecchia Ecco a te Ma bellissimo Questo sì che è un panettone Il 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 panettone